Samuel Beckett l'ho incontrato una volta a Parigi, ma no, 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 io le presentazioni si fanno così, i nomi sfuggono, credevo che si chiamasse Prickett, che aveva tradotto mia poesia in animista tipo paundiano, che si chiamava Eastwater, cioè questo quattrimestre, così, e dissi se lei è Prickett, se qualora lei fosse eventualmente Prickett, io dovrei aver motivo di ringraziarla, lui disse bruscamente, non ha nessun motivo perché io sono Beckett.